Forse era così, c'era un contatto falloso. Vediamo, andiamo avanti. Il palleggio di Aman inseguito da... E' quanto ci piace! L'anticipo di Mancinelli che va a scacciare e ci riporta avanti e adesso non rischi capisce che lì non può scherzare. A quanto ci piace l'anticipo di Mancinelli, così dobbiamo essere... avere scelta dell'incoscienza.